Benvenuti in Russia, cittadini del mondo, ci troviamo ora di fronte alla piazza rossa, siamo ovviamente a Mosca e andremo ad ora a delencare le principali attrazioni di questa importantissima città. Siamo davanti alla cattedrale di San Basilio, sul lato sud della piazza rossa, costruita nel 1555 da Ivan Interribile. La leggenda vuole che gli architetti che hanno costruito questa basilica, riconosciuta ormai in tutto il mondo, ci sono stati poi resi ciechi da Ivan in modo da non poter più ricostruire qualcosa di simile in futuro. Ci troviamo di fronte alla piazza di questo stampatore, eretta nel 1997 dopo l'unico infatti, in quanto Stalin voleva far costruire in questo posto una statua di Lenin di oltre 100 metri. Siamo in Italia nel Cremlino, che non è solo sede del governo, ma anche cuore della storia russa. A circa un quarto d'ora di metro con la linea arancione si trova il centro espositivo di Mosca e il museo dello spazio. Scende la sera e la città si accende. Mosca è una città molto molto grande, quindi per scegliere un bar o un ristorante è meglio farsi consigliare direttamente dalle persone del posto. Sempre se ne trovi una che parla inglese, cosa non scontata. Comunque sia, vale assolutamente la pena visitare la piazza rossa, che di sera è illuminata come fosse giorno. La Mosca è un ottimo strumento per spostarsi velocemente. Ci sono ben nove linee e il biglietto per la singola corsa costa 50 rubri, ovvero circa 80 centesimi. La capitale russa è una delle città da vedere almeno una volta nella vita. È molto caratteristica per tutte le tasche, sia come vitto che come alloggio. Ci si muove agilmente per tutta la città tramite la metropolitana, dove si trovano le stazioni forse più belle del mondo a livello artistico. Per uscire la sera invece consigliamo di contattare qualcuno nel luogo, magari tramite couchsurfing, perché c'è vita notturna per tutti i gusti, ma non è semplicissimo orientarsi. Imperdibile ovviamente la piazza rossa, mentre le attrazioni fuori al centro non sono eccezionali.